Bentornati sul canale, da Lafara e da Fuzzo. Oggi, facendo seguito al video della settimana scorsa, inizieremo questo nostro percorso di approfondimento su chi fossero i Longobardi e soprattutto in futuro su alcuni aspetti della loro cultura materiale, che sono gli aspetti che più incrociano il nostro lavoro di ricostruttori come Fara. Abbiamo deciso però che era necessario fare una premessa, inquadrare chi fossero questi Longobardi, perché noi ovviamente lo diamo per scontato, perché continuiamo a lavorarci sopra da una decina d'anni e perché la nostra generazione, io sono nato nel 1982, è stato bombardato nel senso positivo dalle mostre dei primi anni 90 sui Longobardi, quindi abbiamo studiato le elementari, le medie, le superiori, poi alcuni di noi, anche le università. Ma ci siamo resi conto che spesso e volentieri la gente tende ad avere come unica definizione dei Longobardi il fumoso ricordo magari delle medie. E quindi proviamo a fare un approfondimento. Oggi parliamo di chi sono i Longobardi. Non è una risposta semplice. Dire chi sono in questo momento è quasi impossibile. Non perché non ci siano dati per descriverli, ma perché le interpretazioni che gli esperti traggono da questi dati sono spesso conflittuali. Sappiamo a grandi linee che sono un popolo germanico che ha migrato dal nord dell'Europa, che è un ritardatario del periodo delle migrazioni, cioè del periodo che la stereografia classica italiana definisce invasioni barbariche. Sono infatti gli ultimi a stanziarsi all'interno del vecchio impero romano d'occidente in maniera stabile e che seguono un percorso caratterizzato prima dal bacino del fiume Elba e poi da quello del Danubio. E che la loro ultima tappa, prima di arrivare in Italia, è la Pannonia, cioè più o meno l'attualungheria. A questo lo sappiamo. Su questo si concorda abbastanza. Ma, da un lato, le fonti storiche non sono particolarmente approfondite. Abbiamo dei riferimenti da parte di storici romani, durante i primi secoli dell'era cristiana, che fanno riferimento alla presenza dei Longobardi in mezzo agli altri germani della Germania libera. Ma non sono mai i protagonisti, sono solo sullo sfondo, insieme ad altri. Quindi non ci dicono tantissime cose. E poi abbiamo la fonte principale per tutte le informazioni sui Longobardi, cioè l'Historia Longobardorum di Paolo Diacono. Il problema è che Paolo Diacono scrive alla fine dell'ottavo secolo e parla di eventi che, quando sono recenti riguardo alla migrazione, sono di due secoli prima, quando riguardano l'inizio della migrazione parlano di quattro, cinque secoli prima. E quindi, ovviamente, l'attendibilità, in un contesto dove lui stesso riconosce di aver fatto riferimento alla narrazione tradizionale degli anziani, ovviamente questa affidabilità è relativa. Ora, gli esperti hanno incrociato i dati storiografici con quelli archeologici, con le tracce delle sepolture e potete trovare su Wikipedia la simpiterna mappetta con i percorsi migratori che incrociano quindi i dati e i nomi che Paolo Diacono dà delle varie tappe di questo percorso. È una mappa abbastanza attendibile, soprattutto per le ultime fasi. Quella che rimane più fumosa è la prima, perché Paolo Diacono dice che i Longobardi partono dalla Scania. La Scania, ancora oggi, è il nome della parte più meridionale della Svezia. Non abbiamo però riscontri materiali o anche storiografici ulteriori che ci facciano dire con certezza, ok, sono veramente partiti da qui. Perché la questione è che spesso i popoli antichi, dandosi una storia, cercavano dei topos, anche a livello di origine geografica. E la Scania era uno di questi, il nord, il grande nord. Però di sicuro sappiamo che dal nord della Germania poi scendono, quindi è possibile che in realtà il nucleo originale dei Longobardi fosse partito da lì. Sappiamo poi che appunto questa migrazione è molto lenta, dura secoli e non ha una progettazione. Loro non partono dalla loro origine per arrivare a Cividale del Friuli e poi in Italia. Loro vengono sospinti da tutti i movimenti di popolazione, dalle necessità climatiche che erano proprie di quei secoli. E quindi sono a tappe confuse, nel senso che in alcuni luoghi si fermano più a lungo, in altri di meno, in base alle necessità del caso. E lungo questo percorso sicuramente il nucleo originale che componeva all'origine appunto la popolazione di partenza si arricchisce di altri nuclei. A questo punto arriva la questione più problematica. Nel 568 loro arrivano in Italia passando dal Friuli, fondano a Cividale del Friuli il primo Ducato, che resterà sempre il più tradizionalista e anche una spina nel fianco per il re Appavia, perché sarà un Ducato molto indipendentista, con una certa autonomia politica, economica e militare, e avrà sempre le mani in pasta, addirittura fino con i Ducati del Sud. Ma chi sono questi Longobardi e come si relazionano con i Romani, con la popolazione autoctona? Su queste interpretazioni è battaglia. Diciamo che volendo così fare una schematizzazione facile facile, e quindi ovviamente essendo una semplificazione lascerà indietro alcuni particolari e non accontenterà gli esperti, ma così intanto facciamo un'introduzione al dibattito. Le due teorie sono i Longobardi sono pochissimo germanici, sono una popolazione che si è data una storia di recente solo per avere un'identità, e in realtà entrano nell'Italia con tutte le sue magagni e difficoltà del caso, di cui poi parleremo, e non c'è una vera Longobardicità, non c'è una spaccatura, non c'è... è molto fluido e si diventa rapidamente qualcos'altro, perché alla fine l'identità Longobarda è molto liquida, molto fluida, è anche poco caratterizzata e soprattutto nuova. L'altra teoria invece dice che i Longobardi arrivano, hanno un'identità loro, hanno delle usanze, dei costumi, una cultura materiale, e il loro arrivo segna una spaccatura nella storia della penisola italiana e per almeno alcune generazioni anche una divisione fra gli abitanti, chiamiamoli autoctoni della penisola, e i nuovi venuti. Queste sono le due teorie proprio semplificate al massimo. La prima diciamo che fa riferimento alla cosiddetta scuola di Vienna ed è stata molto in auge fino a poco tempo fa, la seconda invece è quella che normalmente viene supportata soprattutto dal mondo archeologico, che basandosi sui dati materiali e non su quelli storiografici o sull'interpretazione della storiografia, vede uno stacco fisico fra la cultura materiale precedente e successiva. Di recente, questa seconda teoria, quella che quindi vede un'identità abbastanza strutturata nel mondo Longobardo, una consapevolezza di questa identità prorogata per alcune generazioni, e quindi almeno all'inizio per alcune generazioni una certa impermeabilità fra i due nuclei, cioè fra romani e Longobardi, non ci si sposava neanche se possibile evitarlo. Di recente questa posizione è stata rafforzata dagli studi che potete trovare in questo libro qui, che vi consiglio tantissimo, nel senso che un'introduzione sulla storia Longobardi in genere potete trovarla su qualsiasi catalogo dimostra degli ultimi trent'anni e vedrete che queste introduzioni, tra l'altro, rispecchieranno la fortuna o la sfortuna delle varie teorie che vi ho appena espresso. Questo qui invece è uno studio dove il dato genetico, attenzione, genetico, non fatevi esaltare, non parliamo di razze, non è una questione razziale, non è una questione politica, non malinterpretate quello che sto dicendo. Parliamo di genetica, ok? Non di razze. Ma il dato genetico incrociato con il dato archeologico delle sepolture e dei cimiteri, da cui viene tratto il materiale genetico che viene studiato, sembra rafforzare, con dati alla mano, la teoria che appunto non ci sia stata, almeno all'inizio, immediata commissione fra i due gruppi etnici. Noi come associazione siamo più a favore di questa teoria da sempre, ma più che altro perché essendo ricostruttori, quindi basandoci proprio sui reperti delle necropoli per ricostruire i cori di Longobardi, il nostro punto di vista è sempre stato molto incline a notare la differenza con le sepolture che invece a questa cultura materiale non volevano appartenere. Quindi questo è il nostro punto di vista. Introduzione finita. I Longobardi sono una popolazione germanica che migra nel corso dei 400 anni, parte forse dal sud della Scandinavia o dal nord della Germania, tra il Salbacino dell'Elba, il Danubio si ferma in Pannonia e poi nel 568 arriva in Italia. Anche sull'arrivo in Italia non siamo ancora certi, non siamo certi se siano venuti di loro a spontanea volontà. Se ci fosse un accordo con l'impero bizantino, con l'impero romano d'Oriente, che pochi decenni prima aveva riconquistato l'Italia. Anche questo pezzo di storia influisce fortemente su cosa trovano i Longobardi al loro arrivo. Infatti noi dobbiamo tenere conto che tradizionalmente si indica l'anno 476 come quello della caduta dell'impero romano d'Occidente, con la deposizione dell'ultimo imperatore. In realtà la situazione nella penisola italiana non cambia drasticamente da quella data. Da quella data semplicemente si va a instaurare un regno, quello che viene detto romano barbarico, romano germanico, a base gota, ma questi goti, in particolare il loro re, erano fortemente romanizzati e si ritenevano dei vicari dell'impero romano che aveva sede a Costantinopoli. Quindi in realtà la rottura non è culturale, o quantomeno non così forte. Invece, pochi decenni prima dell'arrivo dei Longobardi, proprio l'imperatore di Costantinopoli decide di riconquistare l'Italia e non solo, ma non interessa l'Italia. E visto che la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo, in concomitanza con questa che viene definita guerra greco-gotica, arriva anche la peste. I romani dell'est, i romani d'oriente, vinceranno la guerra greco-gotica, ma sembra che non siano mai stati visti come dei liberatori della popolazione locale, perché comunque erano un esercito formato da abitanti di quello che era l'impero romano d'oriente, che quindi parlava più greco che latino. Aveva una composizione che spaziava dalla penisola balcanica all'Armenia al Medio Oriente, ma sicuramente non al mondo occidentale. E in più c'era la questione delle tassazioni, della guerra, e in più dell'impoverimento causato dalla peste. Quindi all'arrivo dei Longobardi in realtà non abbiamo notizia di grandi scontri. I bizantini, se vogliamo chiamarli così, ai loro cultori non piace questo nome, teniamone conto, preferiscono chiamarli romei, come si definivano loro. Ai romani d'oriente la presenza italiana continua a essere utile, continuano a rimanere per lungo tempo nell'esercato, nella zona di Ravenna, sulle coste, e i Longobardi entrano e non hanno grandi scontri con questi romani d'oriente. Resta comunque il fatto che con la loro presenza più o meno ingombrante impediscono la conquista totale della penisola italiana. Conquista che peraltro non sappiamo neanche se fosse nei progetti originali della migrazione. Altra figura che avrà un grande peso nella storia dei Longobardi è quella del papato. Quella del papato che sarà sempre una presenza difficile da gestire e per la quale i Longobardi saranno una presenza di difficile gestione e che avrà un ruolo fondamentale poi nella fine del regno Longobardo. Quindi questa è la situazione. Abbiamo questi Longobardi che sono sulla carta cristianizzati, anche se seguono l'eresia ariana. Se volete un giorno approfondiamo cos'è questa eresia. Insomma, in questo momento per l'introduzione ci basta sapere che appunto mentre i romani erano romano-cattolici, se vogliamo, loro erano invece ariani. Quindi erano due eresie, sì, dal punto di vista esterno, sono due visioni parallele. Dal punto di vista della Chiesa di Roma una era un'eresia e l'altra invece era la dottrina da seguire. Fatto sta che quindi per un certo periodo, per quanto cristiani, non c'è un reale appaiamento della fede fra le due popolazioni, c'è una duplicazione del clero, perché ci vuole il vescovo ariano e il vescovo cattolico, e in più la popolazione Longobarda mantiene un substrato molto vivo di credenze pagane. Ne è la prova il fatto che quando Paolo di Acono, 200 anni dopo, alla fine del regno, racconterà la storia dei Longobardi, pur definendo la ridicolissima fabula, vorrà inserire nella storia delle origini il mito con il dio Godan e la dea Frea, che avrebbero dato il nome di Longibarbi, cioè dalla barba lunga ai Longobardi, come parte fondamentale della loro identità. Quindi lui da diacono mette le mani avanti e dice sì sì, è una fregnaccia, però ve la devo dire. Quindi immaginatevi se 200 anni dopo loro ancora ricordavano il mito con gli dei che gli avevano dato il nome, come doveva essere invece permeante l'identità tribale originale all'arrivo in Italia. Ecco, quindi poi il regno ha una storia complessa, fatta di alti, di bassi, di andate, di ritorno, e che si conclude nel 774 con la sconfitta per mano dei franchi di Carlo Magno. Quindi questa è la parentesi. All'interno di questa parentesi storica noi studiamo i Longobardi, noi li ricostruiamo, gli archeologi, gli storici studiano i Longobardi, e in particolare gli archeologi lo fanno a partire dalle necropoli, cioè dai cimiteri. Perché? Perché soprattutto per le prime generazioni, quando appunto questo substrato pagano è ancora molto vivo, il costume funerario richiede che il morto venga deposto insieme alle sue armi, a oggetti della vita quotidiana, e questo ci dà ovviamente una marea di informazioni. Ultimamente, negli ultimi decenni, si è cominciato a studiare anche l'attività residenziale di questi Longobardi, come vivevano, dove vivevano, che approccio avevano con l'architettura in loco e se ne portavano una loro dalla migrazione, e magari su questi argomenti faremo un altro approfondimento. Così come li faremo sull'arte fabbrile. Spero che a questo punto, come introduzione, questo possa bastare. Quindi segniamoci giusto due date. 568 d.C. i Longobardi entrano in Italia dal Friuli e vi fondano il primo ducato e più tradizionalista. Nel 774 i Longobardi perdono l'ultima battaglia contro i Franchi e il regno formalmente cade. Carlo Magno diventerà re dei Franchi e dei Longobardi e qualche anno dopo imperatore del Sacro Romano Impero. Fine del regno Longobardo, ma non fine dei Longobardi. I Longobardi restano qui, non vengono mandati via. Diventano un substrato fondamentale, l'ultimo grosso dal punto di vista migratorio, di quella che sarà poi l'identità delle varie regioni italiane. E anche a livello culturale la legge Longobarda rimarrà in uso molto a lungo, o quantomeno nelle famiglie nobili. Il definirsi Longobardo andrà ben oltre la fine del regno Longobardo. Quindi abbiamo questa popolazione germanica con una identità sicuramente in divenire, come tipico dei periodi di crisi, focalizzata sul mondo guerriero, perché in una popolazione migratoria, in un contesto destrutturato, chiaramente sono i guerrieri che decidono, sono i guerrieri che hanno il nervo della gens, per non usare anacronismi tipo Stato o Nazione. E noi li affronteremo attraverso i dati che soprattutto l'archeologia ci dà, incrociata con Paolo Diacono e con le altre fonti. Quindi, se vi va, continuate a seguirci una volta alla settimana e probabilmente la settimana prossima sceglieremo in base ai commenti che voi ci lascerete qui su YouTube o come avete fatto su Facebook la settimana scorsa o anche su Instagram, seguiteci dove preferite, ma i video li troverete qui su YouTube, sceglieremo quindi un tema fra quelli che troveremo da voi più suggeriti, più votati. Le abitazioni dei Longobardi? I cimiteri dei Longobardi? La metallurgia dei Longobardi? Saranno sempre introduzioni, brevi, non pensiamo di poterci sostituire ai professionisti, ma vogliamo fornire in questo momento in cui appunto i contatti sociali sono pochi, la possibilità di recarsi nei musei ancora meno, eccetera, vogliamo fornire un pezzettino in più, un aiuto, un contributo, che possa permettere tra l'altro anche di contestualizzare i nostri altri video, quindi i racconti tratti da Paolo Diacono, le ricette, i contributi ricostruttivi che vedrete nei prossimi mesi, man mano che potremo rincominciare a lavorare all'esterno, fuori dalla sede, ci vedrete lavorare a diverse cose che con delle introduzioni di questo tipo avranno probabilmente più senso. Allora, grazie e alla prossima settimana!